Un saluto da Mauro Coppadoro, ritorna allo sport su Corrente TV La Maddalena anche nella stagione estiva. Ricomincia il ciclo di Inside Sport, il nostro rotocalco che si propone di approfondire tutte le realtà sportive isolane e con molto piacere ospiteremo veramente tutti gli esponenti del ingente movimento sportivo Madalenino dando maggiore spazio alle realtà che hanno meno visibilità ed è un peccato perché alla Maddalena si praticano veramente tutti gli sport con risultati di eccellenza ed è secondo noi doveroso portare alla conoscenza di chi ci segue, sono tanti queste brillanti realtà Madalenine. Sono con me oggi Franco Gargiulo e Antonio Lai della Maddalena Shooting Club associazione di tiro dinamico e all'amico Franco Gargiulo il microfono per spiegarci a grandi linee di che cosa si tratta? Buonasera a tutti, grazie innanzitutto a Mauro e a tutto lo staff per averci dato la possibilità di poter spiegare che cosa è il nostro sport, il nostro si tratta di un tiro dinamico con armi presumibilmente corte tipo pistole, revolver, insomma tutta una serie di armi e noi siamo un'associazione che è nata nel 2012 a gennaio dopo tanti anni di questo sport praticato con altre società abbiamo deciso di aprire anche noi alla Maddalena una nostra associazione anche perché abbiamo moltissimi tiratori agonisti e tra questi tiratori abbiamo anche gente di un certo livello, noi abbiamo già iniziato quest'anno con il campionato interregionale invernale, ha visto praticamente quattro dei nostri atleti vittoriosi campioni interregionali e attualmente stiamo continuando a fare il campionato federale italiano. Adesso vorrei anche passare il microfono al mio amico e collega Antonio che vi spiegherà qualcosa sulla nostra associazione. Ecco perfetto mentre Antonio prende il microfono vedo qua non sono coreografia così allestita in maniera finta diciamo sono tutte medaglie vere medaglie vere vinte da voi in marie manifestazioni strumenti attrezzi di lavoro che adesso Antonio ci illustrerà so tra l'altro che avete viaggiato molto perché la vostra disciplina vi ha portati anche oltre Tirreno. A te la parola Antonio. Grazie Mauro intanto sì hai detto giusto perché il nostro sport purtroppo è nato da poco qua in Sardegna non è che una realtà diciamo conosciuta quindi siamo costretti per effettuare gare soprattutto per confrontarci a un livello bello alto di fare delle trasferte in continente e quindi è lì comunque è già tutto un altro mondo perché abbiamo visto che il livello è molto alto molto superiore a noi però diciamo che nel nostro piccolo ci stiamo difendendo senza problemi ecco vedo qua ad esempio queste cuffie vabbè immagino servano diciamo sì sì no giulo francesco standard b major ecco questo ovviamente per attutire il esatto siccome come ha detto franco prima diciamo usiamo armi vere quindi non si parla di armi finte di nient'altro sono armi vere quindi siccome questo sport è la prima cosa la regola di base è la sicurezza cioè non si intransige su niente sicurezza quindi cuffie occhiali obbligatorio dappertutto sempre nel campo e tutte le persone che entrano all'interno di un poligono di tiro devono avere le cuffie obbligatoriamente se no vengono allontanati immediatamente niente diciamo fa parte proprio del kit del tiratore diciamo quindi cuffie occhiali il cinturone pistola caricatore portacaricatore diciamo il kit perfetto del tiratore ecco Antonio un due parole sì poi passerò a franco con proprio i nomi però quanti siete ecco quante persone madalenine svolgono questa attività e diciamo anche con quali sacrifici perché mi pare andiate ad alzachena ad allenare esatto sì diciamo la nostra società in questo momento diciamo siamo una sessantina di iscritti quindi è un bel numero di ragazzi che sono avvicinati a questo sport che ha dei costi perché sappiamo tutti che diciamo affrontare questo sport ha dei costi però comunque è seguito bene siamo un gruppo comunque di persone che siamo adesso già cinque anni in questo mondo qua stiamo abbiamo fatto corsi io personalmente sono diventato istruttore a livello nazionale quindi riconosciuto dal coni qui stiamo seguendo i ragazzi ci muoviamo spesso soprattutto anche a olbia abbiamo coinvolto anche olbia diciamo dove noi andiamo a effettuare dei corsi e tutto quanto però siamo costretti malgrado di tutto diciamo con i risultati e tutto quello che stiamo ottenendo a doverci allenare fuori dalla madalena siamo costretti ad andare soprattutto dalla zacchena olbia o tempio diciamo quindi sacrifici trasferte costi che diventano pesanti a lungo andare ecco ecco tornerei con il microfono a franco intanto mi complimento con te per l'eleganza della vostra divisa sicuramente c'è il tuo zampino perché conosco il tuo amore per le divise di ogni tipo ecco franco abbiamo parlato prima di grandi risultati di medaglie quindi grandi meriti a tutti questi ragazzi e speriamo per voi che ne vengano tanti altri però parliamo dei risultati più brillanti che ha ottenuto la vostra associazione neonata ma già così ricca di allori noi siamo praticamente primi le categorie in questo tiro sono cinque c'è la categoria revolver la categoria standard la categoria production la categoria classic e la categoria open noi manchiamo soltanto nella categoria open perché su tutte le altre categorie fortunatamente per noi siamo primi in assoluto su tutti i fronti i nostri tiratori migliori sono antonio che ce l'ho a fianco uno sono anche io toni miri bravissimo addirittura toni nel 2010 è stato campione italiano perché ha vinto la gara una delle gare più ambite da noi tiratori che si chiama nation che viene disputato una sola volta l'anno e quest'anno andremo credo il 10 ottobre sia la data designata e speriamo tutti bene poi abbiamo anche altri tiratori di livello franco tranchina abbiamo anche tanti ragazzi che stanno iniziando perché noi siamo diciamo i più i più anziani rispetto rispetto agli altri quindi questo sport noi siamo molto diciamo handicappati tra virgolette perché perché non avendo un campo nostro sul sito della maddalena siamo costretti ad andare ogni giorno fuori ad allenarci in questo sport come qualsiasi altro sport chiaramente l'allenamento è la è la base in principale per poter ottenere dei risultati niente noi ci stiamo stiamo allenando questo periodo ieri un ottimo risultato c'è stata una manifestazione la terza gara del campionato si è svolta orroli primo assoluto è arrivato toni miri con la categoria production noi purtroppo con questi impegni di lavoro non siamo potuti andare adesso la prossima per noi per me e per antonio la prossima gara sarà il giorno di santa maria maddalena 22 di luglio che si svolgerà a dorgali anche la stiamo cercando di allenarci per fare ottimi risultati siamo noi abbiamo presentato sia al comune della maddalena che all'ente parco che a tutti quelle autorità designate al rilascio delle autorizzazioni tutto un plico abbiamo abbiamo chiamato geometra abbiamo individuato anche il terreno la maddalena stiamo in attesa anche stamattina ho avuto un incontro col presidente del parco che mi ha assicurato che c'è un forte impegno da parte loro per poter darci questa occasione e quindi io dico che abbiamo una 61 iscritti per esattezza 61 iscritti in un'associazione dove non esiste un campo per allenarci diciamo che è un grande risultato pensate che gli altri campi intorno a noi arzachena olbia hanno la media di un centinaio di persone pur avendo il campo quindi noi 61 iscritti sono veramente tanti perché l'impegno che ci mettiamo è tanto e devo dire la verità anche i risultati sono ottimi quindi la gente viene invogliata Antonio è un istruttore federale io sono istruttore di un tiro difensivo insieme ad altri nostri colleghi quindi la nostra passione è una passione che nel mio caso è proprio da bambino ho sempre avuto questa grande passione per le armi da fuoco sono un collezionista ho tantissime armi quindi voglio dire quando sarà possibile per noi aprire un nostro un nostro campo saremmo felicissimi di ospitare anche ragazzi che potranno avvicinarsi a questo sport che potrebbe sembrare pericoloso ma al nostro il nostro punto di fermezza è proprio il discorso della sicurezza e noi siamo veramente attentissimi a questa a questa appunto sicurezza per le armi e poi diventa una cosa semplicissima per tutti ripasso il microfono amico Mauro ecco io ce n'ho uno qua fisso quindi lo passo ad Antonio e intanto ecco parlato prima di queste divise sicuramente Bruno potrà zoomare su questo stemma madalenino che vediamo sopra il nome nella nella maglia il leone isolano quindi diciamo che si porta in giro questo ecco si porta questo leone isolano in giro per tutta italia e quando un madalenino visto che siete molto bravi sale sul podio porta in alto il nome della città e la maddalena questo è un po una delle cose belle che accomuna tutto lo sport ovviamente Antonio siete 61 ma chissà potreste diventare anche molti di più sicuramente se riuscirete ad avere un vostro campo di allenamento però prescindendo da questo campo ecco rivolgiti anche così ai eventuali nuovi adepti evidenzia quelle che sono le cose peculiari le principali caratteristiche secondo te per le quali si dovrebbero avvicinare allo sport i ragazzi madalenini ragazzi e forse anche ragazzi si si no no intanto non è preclusa nessun tipo di età cioè si parte dai ragazzini che la specialità del tiro dinamico comprende anche il soft air quindi parliamo anche di armi diciamo a capacità offensiva leggera diciamo quindi le basi sarebbero quel futuro diciamo del tiro dinamico e il soft air poi abbiamo all'intorno del nostro club persone che vanno over 60 anni che si divertono tranquillamente come ragazzini a sparare abbiamo a livello italiano diciamo due campioni diciamo che superano i 65 anni che tutt'oggi quando fanno le gare nazionali vincono tranquillamente quindi non è uno sport che deve essere giovane atletico veloce lì è una questione di concentrazione di testa per 90 per cento del tiro è tutto fatto dato dalla testa e quindi cioè nessun problema parliamo di donne uomini ragazzi ragazzini cioè si possono avvicinare a questo sport chiunque nessun tipo di problema è vero che una volta che parla si dice ma la parte a fuoco porto d'arma e tutte quelle cose che ci vogliono però c'è una base che il software è che si può tirare sui ragazzi perché la cosa bella diciamo noi siamo arrivati tardi purtroppo in questo sport qua però diciamo vedendo incontinenti ragazzini 12 3 14 anni che iniziano alla loro età quando arrivano a 20 anni sono già mezzi campioni quindi i risultati poi si vedono subito noi nel nostro piccolo ci dobbiamo difendere quindi dobbiamo fare dei sacrifici perfetto io tornerei da franco per la chiusura visto che noi facciamo così opera di illustrazione degli sport meno conosciuti come si svolge una gara ecco così ci parli anche magari ci fai capire un po i tuoi record è facile immaginare che sia un tiro al bersaglio ecco però una gara tipo quanti bersagli quanti colpi allora una una gara tipo noi innanzitutto spariamo su dei bestagli fatti di cartone e di metallo sono dei dei piatti dei bober che sono dei dei pepper che sono praticamente specie di birilli fatti in metallo e poi delle carte di carta e mezze carte e praticamente a forma esagonale con all'interno dei dei piccoli cerchi che quello è il risultato dal centro si chiama alfa la parte centrale il charlie il laterale e l'estremo si chiama delta in base a questa a questa punteggio viene definito appunto il risultato che si fa si lavora di dentro degli stage che praticamente sono dei piccole delle piccole garette all'interno di una grande gara in noi in questo momento in sardegna facciamo 6 stage praticamente facciamo 6 mini gare e il risultato finale la media dei colpi sparati in queste gare sono dai 120 e 140 colpi di tutta la gara ci sono varie tipologie di distanze i ferri non si possono sparare sotto i 7 metri il metallo non si può sparare perché c'è un pericolo di rimbalzo del piombo quindi tutte quante le carte vanno messe tutti i ferri vanno oltre i 7 metri si chiamano tre categorie di tipologie di gare sono i long course gli short course e i medium course praticamente un long course sono 32 colpi al massimo da sparare uno un medium sono 24 colpi e uno short sono da 9 a 12 colpi e questo si svolge qual è il segreto segreto è la precisione nel minor tempo possibile quando uno riesce a fare un ottimo tempo e se preciso ha vinto la gara questo è chiarissimo diciamo che in sardegna appunto avendo iniziato soltanto da 5 6 anni questo sport perché in italia si svolge da più di 20 anni ma in sardegna purtroppo siamo sempre arriviamo sempre purtroppo all'ultimo e quindi nonostante in questi ultimi cinque anni si è sviluppato tantissimo questo sport e ci sono circa 12 campi diciamo sulla carta in realtà i campi operativi sono 6 7 e noi siamo i più svantaggiati di tutti perché chiaramente la maddalena il campo più vicino è Arzachena e il campo più lontano è Donori che è Cagliari praticamente noi svolgiamo tutto il campionato sparso per tutta la sardegna le gare è molto semplice noi anche io Antonio siamo due albitri federali iscritti all'associazione aero che appunto è un'associazione affiliata al coni noi abbiamo fatto un corso in sardegna due anni fa Antonio anzi più anziano di me l'ha fatto l'ha fatto due anni prima e anche qua abbiamo voluto fare un corso d'arbitri per imparare il regolamento per cercare di trasmettere anche ai nostri futuri allievi se ci saranno perché dobbiamo essere sinceri nonostante non avendo il campo siamo riusciti a svolgere alcuni corsi anzi una decina di corsi che i numeri possono sembrare pochi mi assicuro che sono tantissimi in questo sport anche perché come diceva Antonio questo è uno sport comunque sia non è che ti devi comprare soltanto le scarpette da pallone qua devi comprare tutte le attrezzature e chiaramente attrezzature costano poi è chiaro che man mano che il livello sale abbiamo bisogno anche di per esempio nell'armamento armi un po più performanti le armi performanti costano però insomma diciamo che c'è una grande volontà e dobbiamo essere sinceri abbiamo anche una bella ricezione da parte dei giovani perché ci chiedono noi diamo i nostri risultati regolarmente sia con la vostra televisione con anche con i giornali locali e sinceramente abbiamo un bel riscontro da parte della popolazione perché ci chiede informazioni quindi vuol dire che le notizie circolano e la gente è contenta e sta avvicinando a questo sport. Bene uno sport che sicuramente i madalinini impareranno a conoscere e conosceranno sicuramente meglio dopo questo primo appuntamento con Inside Sport. Io ringrazio Franco, ringrazio Antonio, ringrazio tutti quanti ci seguono e ci seguiranno in questo primo appuntamento e in quelli che seguiranno nelle prossime settimane. A risentirci da Mauro Coppadoro. Grazie a tutti.